Svolta nelle indagini sugli attentati esplosivi contro i centri commerciali IKEA in Europa, due uomini, entrambi di 39 anni, sono stati arrestati nel nord-ovest della Polonia perché sospettati di minacce a fini estorsivi. Nell'auto usata dai malviventi, gli agenti hanno trovato parrucche, maschere, diversi computer, telefonini e sim card. Le indagini sono state difficili, ha spiegato alla polizia perché i due hanno sempre evitato di lasciare tracce sul luogo del reato. Preparavano con cura le loro azioni, hanno usato varie tecniche di camuffamento, hanno scelto i luoghi del crimine lontano dalla Polonia per evitare sospetti nel proprio paese. Uno dei fermati è un ex manager, parla quattro lingue ed è un esperto informatico. Il suo complice è stato coinvolto in un traffico di stupefacenti. I sospetti avrebbero piazzato esplosivi otto volte da maggio a settembre nei negozi IKEA in Francia, Belgio, Olanda, Germania e Repubblica Ceca. Il 10 giugno a Dresda, in Germania, l'esplosione ha causato due feriti. I due sono accusati di aver messo a rischio la vita e la sicurezza di numerose persone e rischiano una condanna fino a dieci anni di reclusione.